La liberazione di Silvia Romano ha acceso i riflettori nazionali, non senza polemiche, sulla figura dei volontari in Africa. Una realtà diversa, lontana, che porta numerosi attivisti a svolgere un ruolo di primo piano nelle comunità più povere del pianeta. Anche Ilaia, da Barletta, è volata all'Unsar, un villaggio della Sierra Leone, prima che l'emergenza coronavirus imponesse il rientro in Italia. Il mio ruolo era quello di valutare e monitorare un progetto già esistente da diversi anni. Questo progetto si occupa di istruzione, soprattutto in un istituto particolare di l'Unsar e è stato creato per avere un'istruzione più inclusiva, soprattutto delle bambine, ma soprattutto formando insegnanti, dando la possibilità a tutti di poter andare a scuola, quindi fornendo borse di studio, eccetera, e soprattutto andando a incidere su una cosa molto particolare che è l'abolizione delle punizioni corporali durante la scuola. Da una parte i potenziali rischi in un continente continuamente in guerra, dall'altra però la possibilità di interfacciarsi con una cultura tutta da scoprire. Tutti i giorni sei un misto tra che bello sono qui, non voglio andare via, e dall'altra una situazione in cui ci sono un po' paura. C'è proprio questa sensazione che spesso si va in Africa o in altri posti per salvare, per pensare, oddio, e tutto diventa spettacolo anche, capito? Quindi quello è sicuramente sbagliato. Quella è la loro tradizione, sono le loro culture e quindi ci danno il permesso di guardarle, ma non di giudicarle. Ilaria è partita a gennaio e ha trascorso la prima parte del 2020 in Sierra Leone, con il sostegno di familiari e amici per la sua scelta, ma anche con la preoccupazione e lo scetticismo di un'altra fetta di conoscenti, anche alla luce della prigionia di Silvia Romano. Tutti noi ci siamo sentiti Silvia Romano, da sempre studio affinché, per fare il cooperante. I genitori mi hanno sempre supportata, questo sì, hanno avuto paura anche quando sono partita, un po' anche perché comunque da poco era, cioè non da poco, però ormai Silvia Romano era un po' sulla bocca di tutti e quindi era una cosa che poteva succedere a tutti e quindi la paura è chiara che ci fosse da parte dei miei genitori. Chi ha conosciuto la realtà dei villaggi africani si immedesima nel lavoro, nelle gioie e nella sofferenza di Silvia Romano. Non c'è un prezzo per una vita umana, così come non c'è dubbio sul futuro di Ilaria. Il ritorno di Sierra Leone, chiaramente. Grazie a tutti.